Caro lettore o lettrice, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea che esplora la capacità di trasformare la vita quotidiana in un'esperienza gratificante e significativa, una storia che regala speranza e ispira a riscoprire ogni giorno qualcosa di nuovo. La trama del libro La rivoluzione dei piccoli gesti della scrittrice Adele Chiabodo, pubblicato dalla casa editrice Garzanti, è la seguente. Entra nella caffetteria di un piccolo borgo, cerca il taccoino impolverato nel cassetto, lì troverai utili consigli per riscoprire la bellezza delle piccole cose. La copertina del taccoino è piena di polvere, un don inaspettato, che giace dimenticato in un cassetto della caffetteria di un piccolo borgo che si anima solo d'estate. È stata una donna straniera, Ella, a regalarlo al burbero proprietario del locale durante. In quelle pagine ci sono consigli per ritrovare la felicità attraverso piccoli gesti, in apparenza insignificanti, di cui Ella conosce il potere salvifico, perché c'è una gioia resistibile nel riscoprire la bellezza del quotidiano. Durante l'accolta con diffidenza, ma sembra proprio aver bisogno di uno spunto per riscoprire sotto una nuova luce le vecchie abitudini, ormai date per scontate. Per questo Ella lo accompagna, con gentilezza, nelle sue avventure di tutti i giorni. Preparare una confettura di albicocche fresche, organizzare brunch, guardare insieme le stelle cadenti la notte di San Lorenzo, piccole cose in cui possiamo riscoprirci felici come Ella ha imparato per prima e chissà, forse anche Durante riuscirà ad aiutarla a superare il suo doloroso passato, se avrà il coraggio di prendere in mano quel taccuino e aprire il suo cuore. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami per favore a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.